Salve amici e benvenuti! Oggi facciamo un bel recap di quello che è stato detto nel campfire chat del 29 febbraio su Diablo 4. Questo era un campfire importante di mezza stagione, mezza stagione 3, perché sono stati fatti dei aggiornamenti, dei bilanciamenti. È stato inserito, e arriverà a brevissimo, un contenuto endgame, che sono le forche caudine, il gauntlet, roba tiserata fin da novembre. Ma hanno anche parlato della prossima stagione, della stagione 4, che sarà cruciale, cruciale, perché lì ci saranno i cambiamenti sull'itimizzazione di tutto il gioco, quindi stravolgerà molto. E vi dico subito qualcosa che hanno detto alla fine, ci sarà un colpo di scena, perché non volevano metterlo mai, ma adesso lo hanno messo, lo metteranno proprio la season 4, un PTR, quindi un Public Test Realm. Cioè la possibilità di testare in anteprima quello che metteranno poi nella stagione 4. Questo li aiuterà chiaramente a far arrivare quella patch molto molto grande, molto importante, più pulita possibile. Comunque, seguiamo un po' cosa hanno detto. Grazie a WoHead, che ci fa un ottimo riassunto per pagagrafi, così è tutto più facile e veloce. Anche loro mettono season 4 e aggiornamenti season 4 come primissima cosa, anche se è stata detta praticamente alla fine. E appunto c'è questo PTR che arriverà prima dell'uscita della stagione 4, che dovrebbe essere circa a metà aprile. Quindi io mi aspetterei che questo PTR arrivi a metà marzo, più o meno. Ci potremo giocare solamente se abbiamo Diablo 4, ovviamente, e su PC, su Battle.net. E la stagione 4, come detto, sarà focalizzata principalmente su itimizzazione, cambiamenti di intimizzazione, ma anche, hanno detto, tanta roba in più, quindi ci si aspetta anche roba di endgame in più. Dopodiché hanno parlato del Gauntlet, quindi queste forche caudine, a cui sono associate anche le leaderboard, e hanno fatto vedere tanto in realtà, perché hanno fatto vedere ben tre run complete con tre classi diverse, con tre build endgame. Hanno fatto vedere un Necromante, una Sorcerer e un Barbaro. E ci hanno fatto ricordare quanto il Barbaro è sgravato in questa pace, dato che one-shotava tutto a ogni charge e a ogni OTA, e praticamente quel Barbaro ha fatto il punteggio 50% in più del Necromante. Ok. Comunque, come funziona il Gauntlet? In realtà l'hanno spiegato 150.000 volte, comunque lo ripetiamo. Sono dei dungeon fissi, non cambia mai nulla all'interno della settimana, quindi ogni settimana cambierà il dungeon. La sua topografia sarà sempre la stessa, la posizione dei nemici sarà sempre la stessa, la posizione anche dei piloni delle shrine sarà sempre la stessa. Questi piloni sono importanti, molto importanti, perché non sono i classici piloni che ci sono nel gioco normale, perché hanno delle potenzialità e dei buff particolari, per esempio possono far respawnare i boss, che chiaramente droppano ancora più punti, o cose di questo tipo. Lo scopo del Gauntlet non è tanto completarlo e finirlo, ma completarlo col punteggio più alto. Infatti non c'è nessun drop che viene buttato a terra quando fate il Gauntlet, vi interessa solo fare più punti, è un score attack, un high score attack. Il livello di difficoltà è tarato come fosse un Nightmare Dungeon livello 70, quindi circa le lello 120, 4, 25 di nemici. Quindi per una build and game finale non è neanche tanto alto, perché lo scopo appunto è andare veloce e fare più punti possibili. E ogni settimana verrà cambiato e quindi ogni settimana verranno aggiornate le classifiche. Le classifiche sono specifiche per ogni classe, quindi non andate a competere contro il barbaro se siete un necromante, anche perché fareste la metà del punteggio, ma appunto sono divise per categorie e anche per solo play, quindi le singole classi divise, oppure se giocate in gruppo, qual è un'altra classifica a parte. All'interno poi di questi Gauntlet ci sono anche delle casse e delle chiavi che dovete trovare, e le droppano alcuni boss, ma anche qui è tutto fixed, cioè sono sempre nello stesso posto, quindi tutto lo scopo è trovare la migliore strategia, la migliore build, il miglior giro da fare per fare il punteggio più alto. Ah, e se poi crepate lasciate a terra i punti e poi li potete recuperare, ma se voi crepate probabilmente quella è una run un po' persa, evidentemente non farete un punteggio molto alto. E questo è il Gauntlet. Dopodiché hanno messo qualche contenuto in più, come hanno fatto nella stagione precedente, hanno ripreso dei poteri della stagione ancora prima e trasposti. La scorsa stagione l'hanno fatto con degli anelli, questa stagione la fanno con dei poteri leggendari, quindi riportano sei poteri vampirici sotto forma di poteri leggendari. Sono quasi uguali alla loro controparte, diciamo così, potere vampirico che c'era in stagione 2, però leggermente diversi. Sono sei, quindi non sono tutti, e questi qui li dovete trovare, cioè li droppate, non li trovate automaticamente nel codex, dovete fisicamente dropparli e poi se volete utilizzarli, quindi varieranno un pochino le build. Dopodiché hanno detto che hanno praticamente fixato, comunque in larga parte, fixato lo snapshotting, che era fondamentalmente una mezzo cheat, cioè era un modo con cui si potevano indossare alcuni oggetti e lasciarsi il buff e poi cambiare l'oggetto e quindi avere un doppio buff, un triple buff, insomma cose un po' strane, che in realtà i più esperti, più hardcore utilizzavano per fare danni assurdi. Questa pare che sia abbastanza fixata, fondamentalmente era un cheat, quindi insomma l'hanno fixato. Dopodiché hanno fatto un update al pet, alcune cose le hanno abbaffate, alcune le hanno nerfate, comunque insomma l'hanno un po' bilanciato. Dopodiché hanno fatto dei bilanciamenti per le varie classi e vi dico subito che sono tutti buff fondamentalmente. Sul barbaro, che è una delle più classi sgravate, hanno detto che comunque il charge non lo nerfano per questa stagione, anche perché la filosofia che hanno già detto era quella che se c'era qualcosa di sgravato nella singola stagione non lo nerfavano, però ve lo dico, secondo me la prossima stagione lo nerfano perché è veramente overpowered. Comunque in realtà viene buffato ulteriormente il barbaro, per esempio nell'early game nella produzione di resource viene migliorato e anche nel whirlwind viene migliorato. Per quanto riguarda la sorcerer migliorano Incinerate, che non usa mai nessuno, nessuno ha mai usato probabilmente, e le Conjuration. Per quanto riguarda il druido, anche lì migliorano l'early game, miglioramento della generazione di resource, migliorano i compagni, specialmente i lupi. Mi fa troppo ridere che utilizzano nelle slide ufficiali i meme stonks. Va bene. Cioè, ok. Comunque, Rogue. Il Rogue anche lui viene buffato in alcune cose in cui era un pochino più scarsino, cioè Flurry e le ranged builds. E infine il Necromante, anche lui prende un po' di buff qua e là, soprattutto su il movimento, la movement speed e i minion, ok. Comunque oggi, ma ancora non c'è quando sto facendo questo video, dovrebbe uscire anche proprio il patch note di questi cambiamenti che arriveranno a brevissimo, ok. Quindi, che dire. Un campfire, tutto sommato, in linea più o meno con quello ci si poteva aspettare. Sono arrivate le cose che dovevano arrivare, anzi, secondo me questo Guntlet arriva molto molto in ritardo, doveva uscire subito all'inizio della stagione, non quasi a un mese e mezzo di distanza. Ci sono ovviamente dei bilanciamenti qua e là, ma non sono niente di che. La più grossa notizia, secondo me, comunque rimane, sì, il fix dello snapshotting, che palesemente era un cheat e c'era da tipo due mesi, ok. E poi, però, le notizie sulla Season 4, che è la Season più importante di questo Diablo 4. È quasi uscito da un anno questo gioco e palesemente questo sarà il momento cruciale. Perché se scazzano questa itemization, secondo me molti proprio smetteranno di giocare definitivamente il gioco. Perché palesemente sta essendo un po' stagnante. Ci aggiungiamo che è uscito Last Epoch, che secondo me è un Action RPG nettamente superiore, proprio a livello di endgame, costruzione personaggio, sviluppo build e tutto quanto. So per certo che comunque in Italia sta techendo meno Last Epoch rispetto all'estero, per il semplice fatto che non c'è l'italiano. E che comunque magari visivamente non è flashy come Diablo 4, ma vi assicuro che tantissimi stanno giocando Last Epoch a livello internazionale. Fa quasi 200.000 concurrent ogni giorno. Quindi se non si svegliano, anche perché, dico quelli di Diablo 4, perché poi a giugno esce la beta di Path of Exile 2, butta secondo me abbastanza male. Per quanto, chiaramente, l'abbiamo detto mille volte, il pubblico di Diablo 4 è decisamente più casual, è un gioco molto più facile. Quindi magari sono anche pubblici leggermente diversi, però ho sempre Action RPG. Quindi comunque la Season 4 sarà vitale, fondamentale. Quindi è importante comunque che abbiano deciso di utilizzare il PTR, quindi la possibilità di testare prima, in modo da far uscire quella patch il meglio possibile. Poi, oh, in realtà non lo sappiamo esattamente quali sono questi cambiamenti stravolgenti, in realtà lo vedremo anche abbastanza presto. Io sono abbastanza curioso, quindi immagino che testerò questa patch della Season 4 sul PTR quando uscirà, perché voglio capire veramente quanti cambiamenti hanno fatto e quanto potrebbero essere impattanti. Comunque, lo ripeto, per me è super cruciale la prossima stagione. Se la scazzano, secondo me, insomma, la player base scende di un bel po'. E vi ripeto, giocando poi 50, 60, 70 ore, quello che ho fatto ultimamente sulla Stipoc, si nota tantissimo la differenza di possibilità di creare build, profondità endgame, game, personalizzazione, crafting, cioè le differenze si vedono tanto. Quindi ha veramente bisogno Diablo 4 che questa patch e questa prossima stagione sia molto, molto impattante. Ok ragazzi, questi erano i miei due centesimi, il mio recapino del Campfire, fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti e se volete ne discutiamo. Noi ci becchiamo prossimamente comunque per altri video qua sempre sul gaming. Grazie per l'attenzione, statemi sempre bene e alla prossima. Ciao ciao!